Le contingenze a volte aiutano a rivalutare tante realtà considerate superate. Il caso del nuovo ospedale della Piana, che dovrà sorgere a Palmi e che potrebbe far da stimolo per far rinascere le cosiddette littorine delle ferrovie Calabro-Lucane, nel tratto Gioia Tauro-Palmi. Il suggerimento arriva dall'Associazione Ferrovie in Calabria, che sottolineano come una completa assistenza sanitaria non può prescindere da un buon sistema di mobilità pubblica, soprattutto quando i binari a scartamento ridotto della Ferrovia Gioia-Palmi, servizio sospeso nel 2010, passano a pochi metri da dove dovrebbe essere costruito l'importante nuova struttura sanitaria. Nel confrontare i render con un sopralluogo effettuato sul posto, abbiamo avuto l'effettiva conferma di ciò, spiega il Presidente Roberto Galati. La stessa stazione delle ferrovie Calabro-Lucane di Palmi si trova a meno di un chilometro di distanza dall'importante polo sanitario che sarà frequentato da migliaia di cittadini a settimana, potenzialmente quindi migliaia di automobili che potrebbero rimanere in garage se l'ospedale fosse collegato bene e velocemente tramite una ferrovia già esistente con ovvi benefici anche per i mezzi di soccorso che non si troverebbero a dover affrontare ingorghi stradali. Ricordiamo peraltro, aggiunge ancora Galati, che relativamente alla tratta Gioia-Tauro-Palmi di 9 km erano stati avviati i lavori di riattivazione nel 2014, sospesi misteriosamente, sostiene, al termine della messa in sicurezza della frana di San Fantino. Di fatto quindi non esistono più ostacoli di dissesto idrogeologico tali da impedire una nuova riattivazione della circolazione ferroviaria. Ad oggi risulterebbe necessario solo il rinnovo dell'armamento, peraltro previsto ormai quasi cinque anni fa la costruzione di una fermata a servizio del nascente ospedale, la pulizia e il ripristino della stazione delle Littorine a Palmi e possibilmente un breve prolungamento dei binari dalla stazione di Palmi fino al vicino polo scolastico Lato Seminara, previsto nel progetto datato 2014 e che darebbe un'ulteriore funzione alla linea ferroviaria, dedicata non solo a coloro che sono diretti all'ospedale, ma anche agli studenti e ai pendolari, senza dimenticare la finalità turistiche a tal proposito, sostiene ancora il presidente dell'Associazione Ferrovie della Calabria, ricordiamo che la fermata intermedia di San Fantino si trova a poca distanza da un pregevole sito archeologico di età romana.